21 ottobre si celebra la memoria liturgica della morte di Don Pino Puglisi, beato, martire ucciso dalla mafia. È il primo santo beato che è vittima dalla mafia. Lui è nato il 15 settembre a 58 anni, però il 15 settembre, giorno dell'uccisione, è festa dell'addolorata, non si poteva celebrare il 15. Ora, la Chiesa ha voluto ricordarlo il 21 e la Chiesa palermitana oggi celebra la memoria liturgica, cioè la messa proprio di Puglisi. Inizia anche l'attività pastorale della Chiesa palermitana, che si vuole ispirare al servizio, al ministero, a quello che ha fatto Puglisi. Puglisi che ha messo insieme l'evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo, ma un Vangelo che si radica, radicato nel territorio, nei problemi del territorio, promuovendo la dignità delle persone, dei bambini, degli anziani, delle persone, dei poveri. Allora, è importante che questa Chiesa nostra palermitana si ispiri a questa figura che è stato duro, inflessibile, non si è lasciato travolgere dal dominio mafioso e perciò lo hanno ammazzato. Lui camminava a testa alta e voleva che i suoi giovani ragazzi camminassero a testa alta. Vorremmo che tutto il popolo siciliano camminasse a testa alta di fronte non solo alla mafia ma alla corruzione, al clientelismo, ai mali che assediano questa nostra società.